Ciao artisti, se pensavate che l'evoluzione Cheyenne si fosse fermata a Claire Craft, beh, aspettate di vedere le nuove cartucce, le capillari. Pronti a scoprire un'esperienza di lavoro tutta nuova? Vediamola! Cheyenne non ha bisogno di troppe presentazioni, ma sicuramente è chiaro che sono degli innovatori nell'attrezzatura per il tatuaggio, mantenendo sempre la qualità che li ha contraddistinti negli anni. Così hanno creato una cartuccia tutta nuova, ribadendo il loro ruolo di pionieri. La fantastica novità è la nuova struttura del tip che presenta un serbatoio interno con sistema di fuoriuscita a condotto capillare che regola l'emissione dell'inchiostro durante il tatuaggio. Questo fa sì che in fase di riempimento le nuove capillari assorbono e trattengono più inchiostro rispetto alle cartucce convenzionali. Inoltre, quando tatuerete, l'inchiostro all'interno sarà rilasciato gradualmente durante la lavorazione, generando quindi un ink flow controllato e più duraturo. Il risultato? Avrete un flusso di inchiostro fino a 10 volte più duraturo. E cosa accade alla miscelazione colori nella cartuccia e alla pulizia? Sono comunque garantite, ma non finisce qui, perché è migliorata anche la guida del lago che permette un lavoro ultra preciso in qualsiasi direzione. Le nuove cartucce capillari assorbono molto più inchiostro e assicurano la distribuzione uniforme dell'inchiostro su tutti i singoli aghi, anche nelle grandi configurazioni. La membrana di sicurezza brevettata impedisce l'ingresso di sangue nell'impugnatura e la relativa contaminazione crociata. L'ink flow è costante, ciò vuol dire che non dovrete ripassare più volte nello stesso punto per insistere nella stesura del colore. Due dei risultati sono sicuramente il minor trauma sulla pelle del cliente ed un risparmio dell'inchiostro. Questo perché, con le cartucce capillari, le superfici vengono riempite in maniera costante, affidabile e soprattutto più rapidamente. Il tutto viene accompagnato dal tipico controllo Cheyenne che è davvero dettagliato per assicurare il miglior controllo qualità. Questo si nota anche da un piccolo particolare, ma che aggiunge un tocco in più e una conferma dell'attenzione al dettaglio di Cheyenne, ovvero i suoi cappucci colorati che rendono semplice identificare la configurazione dell'ago. Il box delle cartucce contiene 10 pezzi, fabbricate in Germania. Per acquistare le nuove cartucce capillari di Cheyenne basta andare su bodysupply.com o cliccare il link qui in basso. Se hai ancora delle domande o vuoi dirci cosa ne pensi di queste nuove cartucce, scrivilo qui sotto nei commenti. Inoltre, non dimenticarti di iscriverti al canale YouTube di Professional Body Supply per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità del mondo tattoo. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo. Ciao artisti! Grazie a tutti!